Andiamo al segno dell'acquario e dello scorpione Per voi amici dello scorpione questa luna invece è una luna bellissima è una luna che parla di stimoli nuovi che possono arrivare per il lavoro stimoli che possono arrivare improvvisamente magari da persone che non sospettavate oppure da situazioni quindi è una luna che può portare una sorpresa nella vostra vita è una luna che parla anche di viaggi, di spostamenti, di possibilità di muoversi in questo giorno e poi è una luna che chiaramente parla d'amore e del desiderio che voi avete di raggiungere più presto una persona che vi sta a cuore